Buongiorno, benvenuti nel tutorial del software Clients e Privacy di PO e Consulenti relativo alla sezione Consulenti. Affrontiamo il tema dei riscontro agli interessati e analizziamo come viene gestito. Partendo dalla schermata relativa ai clienti, è possibile per il singolo cliente entrare nella sezione dedicata cliccando sul bottone Riscontro degli interessati. Entriamo sul cliente di test e troveremo, oltre ai dati anagrafici dell'interessato che avrà rivolto la richiesta di riscontro, una checklist che deve essere compilata dall'utente e delle annotazioni finali che possono essere aggiunte. Una volta terminata la compilazione, il sistema produrrà automaticamente due documenti. Il primo è una lettera di riscontro all'interessato, basata sulla checklist che andrà consegnata all'interessato stesso. Il secondo è un report ad uso interno dell'evento. Il secondo è un report ad uso interno dell'evento.